Sinora, ogni volta che vi ho presentato un epigramma di Marziale, ho sempre scelto colori di fondo molto brillanti, addirittura sgargianti, perché le sue poesie di solito sono solari e molto divertenti. Quest'oggi, ahimè, la scelta è stata obbligata, lo sfondo è di colore nero, perché di humor nero si tratta nel caso dell'epigramma numero 30 del primo libro degli epigrammi di Marziale. È un epigramma brevissimo, soltanto due versi, un unico distico elegiaco, ed è veramente pungente. Lo leggiamo prima in metrica e poi lo traduciamo in italiano. Traduciamolo in italiano, alla lettera. Due sole frasi, la prima a riga 1. Il protagonista di questa micropoesia è Diaulo, una persona che evidentemente da poco tempo ha cambiato lavoro. Vediamo come. Diaulus chirurgus fuerat. Diaulo era stato chirurgo, dunque era un medico. Però nunc est vispillo, ora è un becchino. Ha cambiato completamente lavoro. Seconda e ultima frase, rega 2. Cepit quo poterat clinicus esse modo. Qui una traduzione letterale diventa difficile. Vediamo perché. Cepit esse clinicus quo modo poterat. Alla lettera. Iniziò a fare il clinicus, lascio volutamente il termine in latino, nel modo in cui poteva, per come gli era possibile. A prima vista l'epigramma non fa ridere, non è divertente, perché abbiamo lasciato la parola chiave clinicus in latino. È un gioco di parole linguistico, basato sull'etimologia di questa parola. L'aggettivo latino clinicus, a seconda del contesto, potrebbe indicare sia un medico, sia un becchino, cioè i termini che ci sono già a riga 1. Perché? Perché un aggettivo che deriva da un termine greco, da un sostantivo, kline, che a sua volta, a seconda dei contesti, potrebbe voler dire o letto, il letto dove sta coriccato il paziente di un normale medico, ma in me anche la bara, il letto funebre, il feretro, la lettiga con cui si trasportavano i morti, e quindi lo strumento di lavoro non di un medico, ma di un vispillo rega 1, di un becchino. Dunque si gioca sul termine clinicus per prendere in giro questo diaulo che da medico, da un giorno all'altro, si è trasformato in becchino, ma evidentemente la vocazione per uccidere i pazienti ce l'aveva già da chirurgus, già quando faceva il medico. Vi ringrazio per l'attenzione, se volete lasciate un like, e se non l'avete ancora fatto vi invito ad iscrivervi al mio canale YouTube. Alla prossima, a presto!